Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono MirkoGamer e oggi vi porterò Crash Royale, scusate se in questi giorni non ho fatto video perché ho avuto cose da fare, vediamo subito con il primo paure, e solo da dire che a Crash Royale non ci gioco da una settimana e mezzo, abbiamo ancora aperto Raga io voglio arrivare in arena, 4, però che non ci riesco cazzo Vediamo questo da qui, scusate dobbiamo guardarlo, ma cos'è? Ma l'avete visto anche voi, è partito velocissimo, questo forcione di merda Raga se tenete premuto il personaggio, vi compare questo ascritto, che fidata Cosa sapevate voi, io no, io no Fuck Come ti permetti, tu vado a fare così con la mia torre Guarda questo ma chi del cazzo Ogni santa volta Cio mono Vaffanculo C'ha 8 la sua torre raga dai grazzo ciao luca grazzo vai buttiamo giù tutto ora, giù tutto intanto buttiamo giù la torre perché poi dopo se facciamo queste cose brutte non ne vale la pena capito, adesso bruciamo un po' di robi qua, un po' di carnefice oh what the fuck dai ma vaffanculo testa di merda, mi ritorno dopo una settimana e mezza se faccio un fail di merda così non andare via vincoli è andato via perché oh no ragazzi vi giuro che se questa battaglia la perdo io ne vado, finisco di fare video perché mi sono rotto il pezzo con uno di cinque ho perso prima ci rendiamo conto con uno di cinque ma vaffanculo drago di merda ma vaffanculo è un bello del cesso ma vaffanculo ma come ho fatto? non c'è un bello del cesso ma vaffanculo ma vaffanculo non c'è un bello del cesso ma vaffanculo anche ho fatto tanto figa figa ok adesso ho avuto un pecc qui fuck 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 what the fuck you motherfucker fuck 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 no go go butta giusto cazzo di torre di ocaso io boione solo 23 su fang ha dato sto coglione di merda non ci credo non ci chiamo non ci sposti l'occo perché perché non ci sono fatti Sì, sì. ma era te questo colettino che non l'ho neanche visto perche zebbile nooo la manchia nemmeno metterli troppi in aria qua l'altro che è prurito questo coso di zanzara fuck you bitch prima torre via dai ci mangiamo anche un peccino così insieme un po dai butta giu butta giu butta giu iscriviti al canale Vaca! Tu b***h madafucca! Dai dai, guarda qui! Guarda qui! Dai! 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 Piace! Dai! Piace! Dai! Oh! Oh! Sto procione qua! Oh! 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 Che bello! Vediamo il pecca! Quanto freddo! Bella raga! Io ho finito il video! Se vi è piaciuto questo video, lasciate like! E... E... Commentate se... Avete qualcosa da dire! Cosa volete... Cosa volete che faccio! Allora così! Ma so su che video volete che faccio io! Oh no! Comunque... Fra un po' vi porterò anche un video di GTA! Che, ciao! Sì... Che, ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.